Sabato sera a casa mia Tutti! E' un bel direttore! E' un santo direttore! E' un santo direttore! Si, una meravigliosa persona! E' un santo! E' un costolo! E vive il nostro direttore! Evviva! Voi non avete idea di che cosa vi aspetta, maledetti smidollati! Fuori! Loro, purtroppo, un'idea di quello che li aspettava ce l'avevano e come? O si improvvisavano ciclisti o erano fottuti! Andiamo, andiamo! Andiamo, andiamo! 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 Pronti? Sì, sì, sì! Fra il nostro Martano e lo spagnolo Trueba fu un bel duello nell'agosto del 34! Guardi che era giugno! Ah, giugno 34! Pardonno, ho sbagliato! Giugno, giugno! Trueba, Trueba! Soprannominato la pulce di Pirenei! Andiamo stasera a fare la solita scambata! Ecco, dove andiamo? Facciamo il giro dei laghi! No, no, no! Andiamoci, il giro delle sette coniglie! Facete coniglie! Ecco, ma che! Io direi, andiamo a cenare da una mia zia a Pinerolo! A Pinerolo! E poi troviamo in nottata! Scusate, ma sono 1200 chilometri! E che cosa sono 1200 chilometri? Che cosa sono 1200 chilometri? E allora, signori tutti, a Pinerolo! A Pinerolo! Avanti! A Pinerolo! A Pinerolo! A Pinerolo! Giugno, dove ha messo la sua macchina? Qui dietro l'angolo, vicino alla sua! Allora andiamo a fare questa gita! A Pinerolo! A Pinerolo! A Pinerolo! A Pinerolo! A Pinerolo! A Pinerolo! la carrellana di bici arrivo la carrellana di bici